Dopo il blocco dei veicoli nel weekend dell'Immacolata che ha lasciato a piedi i possessori di diesel Euro 4, da martedì il semaforo torna verde. La pioggia sembra aver pulito leggermente l'aria, anche se i livelli di PM10 restano alti. Giovedì prossimo, dati Arpa Valamano, si saprà se il blocco si ripeterà anche il weekend a venire. Le misure contro l'inquinamento però non smettono di far discutere, anche gli artigiani pongono i loro dubbi. Per quelle imprese che devono intervenire nel nostro territorio, specialmente in centro Padova, ci sia un po' di più flessibilità solo per quanto riguarda il furgoncino, proprio unico come mezzo di lavoro. Non per i furbetti perché poi, come si sa, qualcuno se ne approfitta e non è giusto questo perché va di scapito nel cittadino. I piccoli preditori avanzano anche una proposta. Oltre al blocco del traffico sarebbe anche opportuno cominciare a far verificare e cominciare nuovamente i controlli degli impianti termici che in questo periodo qui danno un aumento importante all'inquinamento e alla formazione di questi polveri. Controlli che sono un po' mancati negli ultimi tempi. Controlli Controlli Grazie a tutti